In concomitanza con il Consiglio regionale a Cacorner si svolgeva la riunione di giunta della provincia di Venezia. Con l'occasione abbiamo sentito la Presidente Francesca Zaccariotto su tre temi all'ordine del giorno. Incentivazione con la Regione Carinzia, festeggiamenti per l'Unità d'Italia e l'aggressione al patrimonio artistico di Venezia. Ecco l'intervista realizzata da Enrico Borella. Tra gli argomenti all'ordine del giorno la collaborazione con la Regione Carinzia. Sì, questo fa parte di quei progetti cosiddetti di gemellaggio che servono per favorire quelli che sono i rapporti, le relazioni ma anche l'opportunità di uno scambio di quelli che sono i punti di forza dei nostri territori. E quindi sicuramente Venezia è sempre vista come volano per gli altri territori ma per noi è anche l'opportunità di far conoscere i nostri luoghi ma soprattutto di fare promozione del territorio e delle tipicità della nostra terra. C'è il dibattito sui 150 anni dell'Unità d'Italia. Lei ha detto che è un'opportunità per un federalismo che premia i territori virtuosi. Assolutamente sì. Io credo che non si debba usare l'Unità d'Italia per fare una strumentalizzazione di carattere politico ma che si debba proprio partire dal significato che ha l'Unità d'Italia per capire che se si attuano oggi quelli che sono stati gli impegni che poi sempre sono stati dichiarati cioè di portare il federalismo noi garantiremo l'Unità d'Italia. Nel senso che il rispetto del territorio che può passare solo attraverso un'autonomia dei vari territori a livello ad esempio fiscale noi garantiremo un'Italia unita. C'è stato il danneggiamento a Venezia di una statua e anche l'incendio di una chiesa. Le opere artistiche devono essere assolutamente protette. Sì, diciamo che quello che succede riapre purtroppo ancora un problema non solo legato a questi vandalismi e quindi a questo non riconoscimento e dunque non rispetto di quello che è un bene pubblico, un bene culturale, di un significato storico che ha quello della chiesa ma purtroppo riapre anche tutta la questione legata a una sicurezza una sicurezza che se avviene quello che è avvenuto testimonia che non c'è e quindi ci vede come istituzioni ancora più impegnati a garantirla non solo ma anche a trovare delle serie, secondo me, forme che vadano a punire soggetti che fanno questo tipo di azioni. Io credo che questo sia un altro punto che ci porta a riflettere perché purtroppo di atti di vandalismo di questa natura tutto il territorio mai ne è pieno con delle conseguenze che sono veramente drammatiche anche da un punto di vista economico e che vede sempre più i bilanci delle pubbliche amministrazioni impegnate in tal senso andare a riparare ciò che viene danneggiato dagli altri. Quindi io chiedo delle pene molto più severe verso chi compie questi atti ma anche un impegno che permetta da parte di tutte le istituzioni di riconoscere che il tema della sicurezza è un tema sempre e assolutamente aperto.